E' vero che sei solo? Dico, tu non sei sposato? No, non più. Me le ha mandati Costa ieri sera. Sono le carte del processo a spatola. Sai che è vero? Il più importante costruttore di Palermo. Sospettato di avere costruito mezza città riciclando i soldi della droga dei clan italo-americani. Montate, inserirli, gambino. E li ho ricevuti ieri sera dal procuratore Costa con la richiesta dei mandati di cattura. Dicono che ha avuto problemi? Diciamo che qualcuno nel suo ufficio non era d'accordo con quei mandati di cattura. E lo ha lasciato da solo a firmati. Come vedi Giovanni, è un'inchiesta molto delicata. Basile è morto per questo. E' prima di lui l'è il che si capo della mobile, Boris Giuliano. Ascolta, l'altro giorno ho fatto una promessa alla moglie di Basile che prenderemo gli assassini di suo marito. Tu te la senti di mantenere insieme a me questa promessa? Se accetto posso farmi dare una mano al Borsellino? No, al Borsellino lascerò stare. Se accetti dovrei fare da solo. Poso farmi dare un errore di pasticità. Grazie.